Un regolamento di conti post-regionali giocato sul campo o meglio sul prato di un maneggio viene interpretata così da alcuni cittadini la polemica interna alla maggioranza di centrodestra sul nuovo parco a cavallo che potrebbe nascere nella zona della Sora. L'ultima presa di posizione è della rete Comitati per Pavia che da più di un anno si batte per la modifica della variante al piano di governo del territorio. Le perplessità non nascono soltanto dal progetto, un investimento di 2 milioni e mezzo di euro di soldi pubblici ma anche dalle divisioni in seno alla maggioranza. Nei giorni scorsi Fratelli d'Italia ha diramato un comunicato per bocciare l'iniziativa. Per la rete potrebbe trattarsi di un regolamento di conti politico post-regionali ma l'uscita dei meloniani rappresenta comunque un modo per alimentare il dibattito. Ha votato in variante tutto ciò che permette di realizzare questo progetto e adesso a distanza di un mese e mezzo o due mesi dalla votazione ha delle perplessità. Noi ne siamo felici perché vuol dire che tutte le nostre battaglie un risultato l'hanno avuto. Abbiamo delle perplessità perché questo è successo dopo i risultati delle elezioni regionali. Quindi o questo è un messaggio politico agli altri partiti e nello specifico al sindaco fracassi oppure è veramente un ravvedimento. Ma a questo punto chiediamo ancora una volta un confronto con la maggioranza. Un confronto ha ribadito ancora una volta la rete che fino ad oggi non c'è stato. Nemmeno il Consiglio Comunale Aperto sulla Mobilità ha consentito di instaurare un dialogo tra le parti. Ma il tema degli interessi privati con soldi pubblici non riguarda soltanto la zona della Sora. Tante sono infatti le situazioni attenzionate dalla rete come la cementificazione di Borgo Ticino. Anche se in questo caso qualcosa si muove in senso positivo. In via Cabella accanto a nuove costruzioni dovrebbe sorgere un nuovo boschetto, un esempio da replicare altrove. Questa è una bellissima notizia però non possiamo dimenticare che abbiamo comunque dei territori ancora, dei terreni vicinissimi lì, cioè l'Acqua Negra, la Leona, la Vignazza, che invece sono ancora stati residificabili dal PGT che è in discussione adesso, nel senso che è stato adottato, ma noi abbiamo tempo fino al 24 aprile per presentare le osservazioni, per chiedere che anche qui la stessa cura venga usata, la stessa destinazione a beneficio di tutti venga adottata per questi altri terreni.